e in questo modo rendere più vivaci le nostre presentazioni google slides o powerpoint inserendo gift o stickers immagini insomma animate andiamo subito a vedere come funziona gifti.com entriamo per cercare le immagini che ci interessano inseriamo il nome qui nella barra bianca meglio in inglese poiché vi si aprono più possibilità io scriverò computer qui avremo le gifts e qui gli stickers il procedimento per inserire è lo stesso in entrambi i casi scegliamo l'immagine che ci piace clicchiamo sopra andiamo su share copiate il link andate poi sulla vostra presentazione google slides in inserisci immagine tramite url incolliamo il link che precedentemente avevamo copiato e comparirà l'immagine animata inserisci immagine la rimpiccioliremo e ingrandiremo a seconda della necessità e gioco è fatto spero che questo breve tutorial vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata buona serata a tutti